Il mio figlio Daniel vi mostrerà come si fa un puzzle. Quanti anni hai Daniel? Sei. Boh, cominciamo. E ragazzi e ragazze, questo puzzle è anche formato da cento pezzi. Lui è in grado di farlo, l'ha fatto cento milioni di volte, quindi ha deciso di mostrarvelo. Vediamo se anche questa volta ci riuscirà a farlo. Se la cava già molto bene. Dai, forza Daniel, puoi farcela. Facciamo tutto il tipo per Daniel. Si vede che l'ha fatto cento milioni di volte. Perché guardate com'è veloce. Chissà, forse lo farai in tre o quattro minuti. Eh sì, a volte capitano degli sbagli. Ma si può comunque rimediare, a parte se si incastra il pezzo. Ma se no, ogni volta che ha fatto uno sbaglio è riuscito a rimuovere il pezzo. Questo puzzle raffigura Cars con i suoi amici, Cricchetto e con altre macchine. Che bello, sono anche a Londra. Londra è molto bella. Ci vorrei tanto andare all'orologio. Adesso però non ci concentriamo. Dobbiamo concentrare sul puzzle. Eh sì, guardate com'è veloce. Come ho detto prima, si vede che l'ha fatto dieci milioni di volte. Guardate, il puzzle diventerà sempre e sempre più completo. Guardate, ha già finito Cars. Ancora due pezzi e ha finito anche Cricchetto. Ah, e ancora un pezzo e finisce questa macchina verde. Ha finito anche quella gialla. E vi manca ancora qualche pezzo del blu. Ecco, ha finito anche l'azzurra. Adesso mancano solo Cricchetto. Qui, questa macchina qui, che deve ancora finire. E qui un pezzo della verde. E il Cricchetto li manca ancora. E qui un pezzo della terra. Così, ora... Così, ora... Così, ora... Così, ora... Così, ora... Così... Così... Adesso ha raggiunto la margine di sinistra e quella di destra Adesso possiamo sapere quanto è largo il puzzle E anche quanto è lungo il puzzle Perché abbiamo raggiunto qui anche queste margini di sopra e di sotto Guardatelo, sta lavorando sodo per finire questo puzzle Ma vedrete, ce la farà Sì, lo so Durerà un po', però tranquilli, ce la farà Grazie 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 Guardate, ce la sta facendo Anche se ci vorrà bene un po' di tempo Forza Daniel Guardate, li manca pochissimo Eh sì, non sa proprio con quale pezzo continuare Beh, in realtà neanche li trovo a volte i pezzi Ecco perché continua con un nuovo pezzo Qua Via Qua 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 Grazie. Grazie. Guardate, gli mancano... L'ha finito! Ce l'ha fatta! Bravo, complimenti! Facciamo un bel applauso a Daniel! Bravo!